Ok, allora, amici di Facebook, sono al Carrefour di Casavecchio di Reno, questa è la fila che c'è, adesso ve la faccio vedere con calma, la fila che c'è per mangiare una fetta di torta gratis, questa ve la voglio far vedere, voi non ci credete, c'è la gente la domenica pomeriggio fa la fila, questa è una fila di 200 metri, per mangiarsi una fetta di torta a sgagno, cioè gratis, cioè stanno in piedi due ore, adesso io non so quando è iniziata questa fila, ma presumo e questa fila ci sarà da un'ora, aspettate, ancora la fila, ancora la fila, ancora la fila, oh, qua finisce la fila, qua finisce la fila, poi verranno incanalati qua dentro per andare a mangiare la torta, che sarà una torta di 20 metri, all'incirca, ecco questo, allora questo è quello che fa l'italiano medio, per mangiarsi una fetta di torta fa la fila ore e ore e ore, per andare a votare, invece per andare a votare per i loro diritti non fanno la fila, oppure si annoiano, ecco, questa è la fila per mangiarsi la torta. ve la faccio di vedere, io gli darei 2 euro, magari se la vanno a prendere in un bar comodamente, cioè l'ultimo mangerà la torta fra due ore e mezza. Guardate la fila, per mangiarsi una fetta di torta a scrocco, io non ci credo, veramente, non ci credo, siamo messi così, la fila per mangiarsi una fetta di torta, vabbè io vado a prendermi un caffè, va a far cura.